Ciao, Gabriele Minelli, fashion designer. Ancora ad oggi siamo qui a Milano Unica, un evento importante, ci finiamo tutti gli anni e per noi come fashion designer è un'occasione per avere nuova ricerca, spunti, idee, tendenze, quindi ben venga Milano Fashion Week e Fashion Unica. Ciao, Gabriele Minelli, fashion designer. Ciao, Gabriele Minelli.